Se vi siete persi il video su come reclutare Arachnia, in alto a destra, nelle schede, trovate il link per quel video. Waheykooch, ben rilassati alla vostra, dando l'incontro in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Vediamo come reclutare Vela Nera e Terma Iale, sono metodi molto semplici, basta semplicemente combatterci e avete fatto. Certo, non è auto-befriending, però comunque sia, se avete capito come funziona, ci vuole frutto proibito per farli diventare amici al 100%. Come sempre, vi ricordo il frutto proibito, trovate il link in descrizione per yo-kai-watch-world.net Se andate sui QR code, selezionate frutto proibito e avete 600 codici da scansionare per avere 600 frutti proibiti. Ma vediamo, io l'ho trovato dalla sesta volta che sono entrato nel campo di grano infinito, nebbicolo nebbioso. Non succede sempre la sesta volta, vi spiego brevemente perché. Il vicolo nebbioso ha delle richieste da soddisfare, o meglio, lunatica ha delle richieste da soddisfare. Se voi soddisfate in maniera del tutto casuale queste richieste, a un certo punto del gioco, potrebbe essere anche la terza volta, potrebbe essere la seconda, potrebbe essere anche la diciottesima, per dire, quando avete soddisfatto tutte le richieste, primo trovate termaiale e velanera, e poi trovate il boss, ma dopo, la volta successiva a quando avete soddisfatto le richieste. Questi due yo-kai possono comparire anche, come state vedendo, a verso i mille metri. A me in questa run sono comparsi per ben tre volte. Infatti, la prima ho catturato termaiale, la seconda ho catturato velanera. Quindi compaiono in modo del tutto casuale, possono comparire a mille metri, possono comparire a duemila, a tre mila, a quattromila, a centomila. Perché il campo di grano infinito, dopo che è sconfitto il mostro, diventa infinito. Un po' come il tunnel infinito, che dopo la sesta volta, questo qui invece è ai numeri, dopo la sesta volta, e beh, diventa infinito perché avete sconfitto martelio. Una volta sconfitto il boss, non c'è limite. Quindi cercate di godervelo al meglio che potete. Quindi, ricapitolando, sono andato, sono andato, ho trovato termaiale, ho usato il frutto proibito, dato che ce ne avevo alcune di scorta. Gliel'ho dato. Una lotta piuttosto, non dico difficile, ma piuttosto lunga, come quella per Arachnia. E perché comunque sia, ho provato a usare la pistola, mi è uscito il cuore, e quindi non ho potuto fare danni. E poi lui incantava, io incantavo, lui si difendeva, si nascondeva, come Arachnia. Insomma, si nascondono tutti quanti dai miei attacchi per evitare di essere colpiti. La stessa cosa a velanera, però per velanera è andata bene, perché con la pistola ho preso il danno e non il cuore, per fortuna. Ed infatti è stata una cosa molto molto veloce. L'ho incontrati una terza volta, ma ho detto, vabbè, magna, ma chi se ne frega, andiamo avanti. E non ci pensiamo, oramai l'ho reclutati. Potrei reclutarne ancora? Beh, sì, potrei reclutarne ancora per fare la sfera di termaiale, che l'essenza di termaiale è molto utile, però ho preferito giocarmela tranquillamente, arrivare alla fine, e direi che la prossima volta ci sarà la boss battle contro il mostro del campo di grano. Quindi, chissà che domani non carichi proprio quel video. No, sinceramente non lo so cosa caricare domani, perché non so se c'è lui. Non lo so proprio. Se si arriva, carico quel video, se no carico un altro. Ad ogni modo, anche questo video breve finisce qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye! Ciao!